Siamo all'Aiute Sport con Fabrizio Nascimento e parliamo dell'ultimo kimono dell'Adidas, sull'ultimo lato il kimono da Brazilian Jiu Jitsu Adidas Quest. Allora, l'userai i campionati italiani a Firenze e come trovi questo kimono? Tu che ne hai provati così tanti nella tua carriera? Io ho provato tanti kimoni, cerco sempre di stare bene addosso a un kimono a me, anche se sono troppo esigente, però questo kimono Adidas Quest è un kimono efficace, un kimono leggero, un kimono confortevole anche di usare e devo usare lui questo kimono in un campionato italiano e spero che mi porti tanta fortuna come mi porti un altro kimono Adidas. Allora, in bocca al lupo per i campionati italiani, ci vediamo presto e grande Fabrizio Nascimento. Grazie mille, forza Adidas!